E bella a tutti, qui è sempre il solito Gerddo che vi parla. Come state ragazzuoli? Spero tutto bene. Sto pubblicando un video al giorno e spero ne siate contenti. E questo mi rende obbligato a portare nuovi contenuti. Quindi dobbiamo un po' spaziare, ma dato che il gioco è uscito da poco, c'è sta parecchia roba di cui parlare. Ed oggi parliamo di gameplay. Per adesso, per la mia esperienza e per la vostra soprattutto, è meglio parlare di gameplay. Dall'uscita di FC25 vi ho portato le mie prime partite, quindi le mie prime impressioni. Dopodiché vi ho portato le tattiche. Ne ho provate tantissime e quelle che vi ho pubblicato sono le migliori che ho provato. Ce ne saranno altri, ma per adesso è il momento di parlare di gameplay. Come si gioca su questo FC25. E infatti questa mattina è capitata proprio a Fagiuolo una partita in rivals contro un pro player molto forte. E non avete idea di che squadra aveva, tanto tra poco la vedrete. Sto parlando di Der Gaucho X, pro player del Borussia Munkenglabak. Quindi ho deciso di portarvi questa partita in stream che magari vi può aiutare a capire meglio il gameplay del gioco. Fatemi sapere dunque se vi piace questo tipo di contenuti, questo giardo versus pro. In caso lasciate un bellissimo like e commentate qui sotto. Adesso vi lascio alla partita e alla fine ne parleremo. Pazzo, se è Gaucho questo è tosto tosto. Non so se è quello che dico io. Guarda che roba va. Partita per Elite. No, partita per la divisione 2. Ginola ambappe contro. Parcozzia. Poteglia spur. Menni che ho messi i presti, così magari cerchiamo di tenere un pochetto. Ma l'ho spostato! Regà, ma che cazzo è successo? Ma regà, ma ha levato... Dai, regà, ma ha levato... Ha levato la mano! Ma l'ha levata! Ma non me... Mamma mia! Mamma mia! No! Mamma mia! Perché cazzo ha fatto sta cosa? Cioè... Perché se è centrato invece di rimanere largo in quel caso? Ho il gioco? Mamma mia! Oh, veramente oh! Cioè... Non mi ha agganciato neanche... Ho fatto un passaggio nel R1X. L'ha fatto male. Non mi agganciava neanche Bellingham che stava vicino. Eh, porco due! Ve lo diravo, ci ho ripensato. Bella che... E scuola c'è questo Ristiano, ma chi è? Cioè, se è Gaucho... Gaucho... Questo è fortissimo. È questo qua. Che mostra... Mokei Kavak! No! Mamma mia! Rashford, Dio! Io spero che tu non ti svegli domani. Ah! Arco 2 sono stupido, ricomincia. Questo non posso fare queste cose. Fai il gioco, fai il gioco, fai il gioco, fai il gioco! Dio, 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 che merda, oh! Un incubo! Sto cazzo di Davis, l'odio! Porco 2, cazzo! Magnavo brutto questo, eh! Mamma mia, Vandeven, ragazzi! Che cazzo, eh! Vai, coperato! Mamma mia, che buco di culo! Capito! Mamma mia, oh! Che palle, vai! Segniamo all'ultimo! Oh! Tanto! Argauccio! Vai, prego, scusa! Scusate, scusate! Conginò l'Ambappé, Budejas, Pincopalle e Pincopallino, scusatemi! Ha fatto due di rimporta! Quello rimpallato con Howard che leva la mano! Due di rimporta ha fatto! Scusate, eh! Scusatemi! Meno male, ho vinto! Partita molto tosta, ragazzi! Lui dava una grossa, grossa pressione! Oltretutto era la partita per arrivare in divisione 2! E sappiamo sempre che è un po' ambigua! Meno male che inizio partita, mi sono detto Siamo i prestiti, proviamo la squadra Perché è la partita per salire di divisione! Senza Bellingham e soprattutto Bonmadì Non so se avrei portato a casa Sicuramente sarebbe stata molto più difficile Immaginate Camavinga o De Bruyne Con 65 di velocità, con le gambette E con le di tramba a Pegginola La partita è stata questa, molto statica Nessuno di due ha concesso tantissimo all'altro Mi dispiace per non aver parlato tanto in stream Non ero tantissimo loquace Ma come devi stare un attimo con questi cristiani prendi gol Di solito parlo anche durante le partite Però il confronto contro un avversario così forte E dove lo sta concentrato Questo proprio per farvi capire la difficoltà Nel cercare di intrattenere mentre si gioca ad un certo livello Per quanto riguarda la partita, ragazzi Il primo gol che ho preso è completamente kick-off Ho notato che quest'anno kick-off 45esimo, 90esimo Si sentono molto di più dell'anno scorso Questo perché è stata allevata della CPU alla difesa Che ti aiutava parecchio in questa cosa Quindi, ragazzi, se queste cose sono ritornate Male male, secondo me Meno male lì mi ha dato il rigore Lui ha cannato completamente l'intervento con Schlotterback Ma l'avrebbe presa comunque con il terzino Io sono entrato in aria con il tecnico L'R1 Plus di Bon Mati E qui capite già la differenza tra una carta normale E una carta forte che ti sposta a vallo all'ultimo E prende rigore Se vedete però l'azione che porta al rigore Ci sono parecchi passaggi che faccio Vado sul fondo Torno indietro Dove cercare di fare più passaggi possibili Cercando poi il buco giusto per entrare Che sia o con l'R1 O con lo sprint boost Che quest'anno funziona di più Soprattutto perché se beccate uno forte a difendere È difficile entrare Quindi ragionate quando passate il pallone Non fate queste R1X a stecca sulla punta Che quest'anno funzionano poco E il secondo gol, ragazzi Ai meta, virgolette È il meta di questo FC25 Palla alta con il primo triangolo a scavalcare la difesa Cioè non è che sia proprio il meta Ma è una meccanica che funziona È a volte utile Anche i lanci lunghi con L1 triangolo Ma io vi parlo proprio di questo L1 triangolo piccolino a scavalcare la difesa Infatti qui cosa faccio? Sempre scambi centrali Aspettando il momento giusto Palla a Nico Williams L1 per fare inserire Son L1 triangolo per dargli la palla E concludo bene Non che vengano sempre queste azioni Anzi molto spesso O vanno al portiere O vanno alla difesa E sono stato anche abbastanza fortunato Con Wigo Williams Che non è a zecca 1 Per quanto sia fortissimo Corre bene Tira e passa brutto Ragazzuoli Questo era il Giardo vs Pro Vi ho messo degli rights nella partita Non vi ho messo tutta la partita intera Fatemi sapere in caso Se per i prossimi la volete Poi sfortunatamente Questa è stata pure una partita Dove non è che ci siano state Così tante occasioni Quindi è risultata così Ma dovete capire Che il livello Era parecchio alto Stiamo parlando anche Di uno dei campioni Da Virtual Bundesliga Quindi allora ragazzuoli Mi raccomando Lasciate un like E commentate qui sotto Se vi piace questo tipo di video E magari se avete anche Dei consigli su come migliorarli Accetto tutti i consigli E le critiche se costruttive Quindi ragazzuoli Per oggi è tutto Noi ci vediamo Tutte le mattine In live su Twitch Alla prossima E bella regà Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.